Ciao a tutti e benvenuti all'ottavo episodio della rubrica le vostre esperienze personali. Esperienze di abuso psicologico, di manipolazione, di grande sofferenza che però portano sempre dentro la speranza e la voglia di guarigione e di liberazione. Voglio ringraziare tutte le persone che mi scrivono, piano piano leggerò tutte le mail, soprattutto le persone che poi mi riscrivono e mi raccontano quanto sia stato fondamentale per loro sentire una terza persona, me, leggere la propria storia. Perché è come leggerla diciamo da fuori, cioè sentirla da fuori, quindi averne un approccio più distaccato e quindi più obiettivo. Quando si vede la propria storia, il proprio vissuto da un'altra angolazione ha sicuramente una valenza di risveglio quasi, come per dire ma davvero mi sono comportata così, ho accettato questo piuttosto che quest'altro. Insomma, la coscienza si muove e sicuramente in un modo chi in un altro ne trae beneficio. Quindi io sono molto contenta e vi ringrazio e vi invito quindi a scrivere ancora dialoghi.interiori.gmail.com Inizio subito con la riflessione, una testimonianza e anche riflessione di una mia amica, che ho poi avuto modo di conoscere piano piano, sempre attraverso il blog, si chiama E. Ciao Giulia, sono sempre E. Qualche tempo fa in uno dei tuoi video ricordo che parlavi di qualcosa riguardo la spiritualità. Questo mi ha riportato alla mente altri ricordi del mostro, quell'essere che spesso si descriveva così anche da solo. C'è stato un periodo in cui continuava a dire che solo Dio poteva giudicarlo e siccome né io né nessun altro eravamo Dio in terra, tutto gli era indifferente. Postava frasi legate al Vangelo o alla Bibbia, frasi religiose legate a Dio, al Paradiso e all'Inferno. In più si era messo in testa di tornare a fare delle sedute spiritiche che diceva di aver fatto tanti anni prima perché il suo amico immaginario era lì pronto ad aiutarlo. Forse voleva spaventarmi, ma in quello che diceva sembrava crederci veramente. Eh sì Giulia, loro ci credono nelle bugie che raccontano, tanto da farti dubitare di ogni cosa, compresa te stessa. Anche in quel momento pensavo e sentivo che non tutto era normale e sincero, non tutto era limpido, ma che chiaramente perdeva il suo tempo a raccontare palle per tenermi stretta a quella che ormai era dipendenza. Una sera qualunque arrivò ad inventarsi che la sua ex storica lo inseguiva con la macchina per investirlo e che la sua ex moglie voleva addirittura avvelenarlo. Tutte storie senza senso, senza fondo di verità, solo per il gusto di vedere come reagivo, quello che avrei risposto se gli avrei creduto o addirittura difeso. Io lo lasciavo parlare, ma sentivo la mia intelligenza offesa, cioè era davvero convinto del fatto che credessi alle sue storielle. E questo mi faceva sentire stupida e tonta, ma ti assicuro che così non era, perché non ho mai creduto fino in fondo a tutto ciò che diceva, dalle piccole cose a storie come queste. Il giorno dopo chiesi come stava, visto che la sera prima in quei racconti si improvvisava pure spaventato, perso e impaurito. Mi rispose che non sapeva di cosa stessi parlando, che lui alle 22 era già a letto, che non mi aveva mai scritto niente di simile, che cercava di farmi sentire pazza, come se avessi sognato tutto, ribadendo il concetto che solo Dio poteva giudicarlo. E in quel momento io non ero nessuno per dire che stava mentendo. Assurdo, vero? Nonostante io avessi gli screen del tutto fino alle 2 di notte. Cara Giulia, sono persone molto disturbate e pericolose, proiettano tutto nella preda scelta, ogni loro follia e invenzione, ogni loro paralo o gesto, tutto ciò che dicono o fanno serve solamente a riempire il loro ego, e quella scatola completamente vuota di emozioni che da solo non possono provare. Quella sete di sapere tutto, invece, di cui parlavi qualche giorno fa, mi stava davvero divorando. Tantissime cose ormai le avevo sapute, a volte gli davo proprio modo di dire tutta la verità, ma negava pure davanti all'evidenza ormai. Sì, perché loro di bugie vivono, la loro immagine creata d'arte vale più di tutto il resto. Niente e nessuno è più importante di quella per continuare a passare come persone buone, oneste, rispettose, educate e gentili. Tutto questo aumentava la mia rabbia, la sete di sapere e parlare con ex, amici e finti amici, colleghi di lavoro, famiglia, nuove fiamme, chiunque, pur di avere conferme dello schifo che faceva in giro. Insomma, Giulia, come si può stare fermi e controllarsi davanti ad una persona che ti ha fatto passare l'inferno e che vedi vivere libera e felice come se niente fosse? Come si può trattenere e gestire l'istinto che la rabbia ti fa salire? L'unica risposta che mi sono data è con il buonsenso e la buona fede. Avrò i miei disagi, come tutti, ma non agisco mai in cattiva fede come fa lui costantemente. Il buonsenso mi riporta all'equilibrio mentale, quello che ho cercato di distruggere. Lui prende tutto da tutti, soldi, emozioni, sorrisi o pianti, cattiveri continui e momenti di euforia. Ma una cosa la sa bene, che con me sa di aver perso, sa di non poter più prendere niente, sa di potermi guardare da lontano, spiandomi sui social e chat varie, ma resta fermo lì senza fare altro perché non reggerebbe il rifiuto. Il mio silenzio, la mia indifferenza, totale, qualora dovesse cercarmi ancora, ha la certezza che non sono più lì ad accogliere ogni sua pazzia. Forse dentro di sé, in uno di suoi tanti sé, ha avuto la paura di guardarsi allo specchio veramente perché io lo spingevo a farlo. E chiudo con una sua frase. Tu mi hai sempre scavato dentro, hai visto cose che nessuno sa di vedere, hai letto come poesie i miei scarabocchi, nessun altro dove mai sapere o vedere, ed è per questo che non posso stare con te perché io non so gestirti. Io ho vinto, cara Giulia. Ti abbraccio, la tua amica E. Cara E, grazie, grazie mille per la tua riflessione, per quel che concerne la sete di sapere, il fatto di andare a cercare le risposte. Io, figurati, ci ho perso anni della mia vita a fare una cosa del genere, però ecco, ce l'ho proprio persi. Cioè, è giusto fare tutto un percorso di capire, di sapere, eccetera, però a un certo punto, uno si deve fermare, secondo me, perché anche andare a ricercare troppo è una perdita enorme di energie, anche andare a scavare è ancora come prendersi a coltellate da soli. È giusto andare a vedere, ma quando noi comunque abbiamo un tot di informazioni, poi è chiaro che il tot varia, però quando abbiamo già delle certezze che quella persona è una persona tossica, che ci ha fatto del male e che sicuramente le pazze non siamo noi, bisogna anche avere le palle, perché ci vuole coraggio di dire va bene, basta, chiudo, no contact totale, senza poi continuare magari per anni, pure quando la storia è finita. Ecco, quando la storia è finita, uno va a cercare, a fare altre risposte, per sentirsi sempre più male, diventa poi una sorta di dinamica tossica che noi stessi dobbiamo interrompere per poter poi andare avanti, quindi fino a un certo punto sono d'accordo, è l'eccesso poi che va a rovinare la nostra vita, di certo non la sua, che già si starà a fare i cavoli suoi da tempo, quindi ecco, soltanto questo intendevo dire la scorsa volta, ma cercare delle risposte è più che normale, è più che ovvio, è necessario. Grazie mille per aver scritto, continua pure, assolutamente. Aspetto altre due bellissime riflessioni, dagli è tutta e t'abbraccio. Adesso leggo la testimonianza di un'altra E. Cara Giulia, sei una roccia, come lo siamo tutti noi esseri umani, che abbiamo sofferto per anni. Basti pensare a Dio, o chiunque esso sia, chiunque sia a capo di tutto l'universo, che rimane inerme a tutto ciò che il male è capace di fare. Sì, perché non possiamo cambiare le cose, ma possiamo scegliere. Abbiamo il libero arbitrio di vivere la nostra vita nel migliore dei modi, ed evitare il male. Questi demoni alieni, entità perverse, o come si voglia definirli, con l'unico intento di distruggere tutto ciò che li circonda. La mia storia non è diversa da tutte le altre. Sono cresciuta con una madre narcisista che mi ha manipolato tutta la vita, inducendomi a diventare codipendente agli estremi. Scelte sbagliate, dettate dalla mia fame di amore e di autolesionismo, suppongo. A soli 15 anni, io, ragazzina ingenua, pulita così fragile, incontro il mio primo narcisista. Tra l'altro, tossico dipendente ed inutile dirti una lotta contesa da due grandi mostri, l'eroina e il suo ego. Difficile definire quale sia stato il male peggiore. Ma mi regala due figli meravigliosi che mi daranno la forza di non morire dentro completamente. Da lì, tutta una serie di relazioni tossiche ed ogni volta ne incontravo sempre uno più forte spiritualmente. Quattro anni fa, la ciliegina sulla torta. Incontro un sociopatico, un ragazzo davvero disturbato. Ma grazie a lui, ho avuto la possibilità di lasciare l'Italia ed andare all'estero per lavoro, salvandomi dalle grinfie della regina narcisista, mia madre. Primo obiettivo raggiunto, direi. Tre anni con lui mi hanno devastato, ne sono uscita di laniata, non sapevo nemmeno più chi fossi. Ho perso anche il mio lavoro. Sarà bastato a farmi capire la lezione? No, dovevo incontrare l'ultimo Satana, che come da copione si è alimentato di tutta la frustrazione che mi portava ancora dentro. Il primo appuntamento ero già abbastanza cotta. Ho provato sensazioni, mai provate prima. Mi sembrava di essere stata catapultata in una dimensione mai percepita prima, sebbene, come tutte le altre persone, percepivo un ostentamento nei suoi atteggiamenti. Non ho ricevuto un love bombing verbale da parte sua. È stato tutto un gioco di emozioni e sensazioni, studiate con la precisione di un orologio svizzero. Magia dura da solo pochi giorni e puff, arriva la triangolazione. Sì, perché avendo vissuto la mia vita con questi soggetti, fiuto subito le stronzate che mi dicono. Lui confessa subito in un mare di lacrime. Che attore! Dicendomi che questa donna è l'unica che lo abbia aiutato a inserirsi in questo paese straniero, traducendo per lui documenti inerenti al lavoro, banca, eccetera, eccetera, ma che non ha nemmeno una vera e propria relazione. Già, pensai, noi viviamo in un paese straniero, non conosciamo la lingua ed io in primi scombatto con la stessa angoscia da tanti anni. Sono dovuta anch'io scendere a compromessi tante volte per elimosinare un aiuto. Morale della favola? Lo perdono e cerco di trovare una soluzione, un modo per farlo ragionare e spronarlo a liberarsi di questa persona. Ma mi sono infine occhiata da sola. Dopo una serie di gaslight a tutto spiano, dopo soltanto un mese, ma ti rendi conto dopo solo un mese, per la prima volta nella mia vita mi ritrovo ad avere un attacco di panico perché non riuscivo più a comunicare con lui io scrivevo A e lui mi rispondeva B. Stavo impazzendo. Distesa sul pavimento di casa cercavo di restare più calma possibile e di respirare profondamente. Io sola, senza nessuno in un paese che non è il mio. Continuavo a ripetere a me stessa se fossi io ad aver perso il senso della ragione e la mia razionalità si scontrava con le sue risposte distorte ed illogiche. Lì ho capito che era arrivata la frutta. Non so come mi sono imbattuta in YouTube. Cercavo a cosa fossero correlati tutti questi disturbi e benedico il commento di una ragazza che descriveva esattamente i miei stessi sintomi attacchi di panico tachicardia e stanchezza fisica. Mi si è aperto un mondo finalmente ho visto la luce ho finalmente potuto dare un nome al mio male si chiamava narcisista. Mi sono sparata tutta una dose di video fino alla nausea e ho conosciuto te Vappole Mara Lorraine e tanti altri in inglese che mi date la forza ogni giorno di mettere in pratica il mio no contact mentale ed ho visto l'alieno per quello che davvero fosse la sua maschera è caduta patetico triste penoso tirchio bugiardo invidioso ad oggi non mi lascia più nessun'altra sensazione se non quella di repulsione la strada è lunga lo so perché ancora non me ne sono liberata ma mi sento molto meglio non ha più il potere che aveva prima sulla mia mente e sto lavorando nell'eliminarlo completamente dalla mia vita grazie grazie dal profondo nel mio cuore di esistere Giulia perché tu e tutte le altre siete nate per una missione ben precisa aiutare le persone ad uscire da questo inferno che esiste da sempre ma che poco se ne è parlato fino ad oggi spero di scriverti presto e comunicarti che il mio alieno è stato sconfitto per sempre per ora è tutto ti abbraccio grazie a te grazie a te di cuore mi dispiace tanto che hai passato dei momenti così difficili ma sei una roccia pure te altrimenti non saresti stata in grado di metabolizzare tutto e metterlo nero su bianco è un'enorme un'enorme terapia che noi facciamo con noi stessi mettere nero su bianco io l'ho fatto tantissimo come ho detto altre volte mi facevo pure i video da sola come i matti però poi dopo a distanza di tempo mi sono andata a risentire e mi sono appunto riletta da fuori quindi grazie grazie a voi quindi daglie tutta e voglio sapere quando sconfiggi l'alieno voglio essere la prima a saperlo notate come noi prede nel momento in cui siamo agganciate totalmente dal predatore dal vampiro emotivo dal narcisista poi insomma lo chiamiamo come ci fa più comodo tanto comunque più o meno i parametri sono quelli non possiamo fare i diagnosi ma comunque abbiamo visto che le dinamiche sono sempre un po' quelle io più di diciamo mettere l'attenzione sulle dinamiche del narcisista perché comunque se ne parla a go go voglio mettere luce sulle nostre dinamiche da prede è questo proprio lo scopo del mio blog vedete come noi finiamo sempre per giustificarle queste persone troviamo sempre una giustificazione dettata poi un po' forse dal cuore più che dalla razionalità no? cioè oppure magari sono giustificazioni razionali io non lo so mi verrebbe da dire che sono più giustificazioni di cuore di pancia no? eh vabbè ma forse c'ha bisogno d'aiuto perché viviamo all'estero eh però forse lui si comporta così perché ha sofferto cioè sempre a giustificare a giustificare perché vedere la realtà fa per quella che è troppo doloroso e quindi una parte di noi nella famosa danza della dissonanza cognitiva ci prova sempre a darci una giustificazione che poi quando ci arriva la giustificazione in testa diciamo ma ci devo credere a sta cosa a sta giustificazione eppure lì una parte di noi ci crede e un'altra no però poi comunque noi che siamo sempre buone e volenterose di ascoltare il prossimo di capirlo eccetera diamo retta la giustificazione appunto come diceva la nostra amica infinocchiandoci da sole il vero infinocchiamento è trovare sempre una giustificazione alle loro malefatte riflettiamoci e adesso il momento tanto atteso leggiamo la seconda parte che però non è l'ultima ce ne sarà ancora un'altra della storia di Miriam allora nella scorsa puntata diciamo nello scorso episodio Miriam ci ha raccontato la sua storia con quello che lei chiama il satana Giorgio però nella parte diciamo iniziale della mail lei aveva raccontato di questo capo che ci aveva provato con lei ma lei era riuscita a respingerlo e io l'ho saltata perché lì per lì mi sono detta mammo sta cosa che c'entra siccome le mail sono lunghissime ogni tanto qualche piccola parte la salto diciamo soprattutto le parti iniziali dove comunque c'è tutta la premessa e invece ho fatto un errore perché Miriam mi ha strillato no scherzo vabbè e mi ha detto io non l'ho detto a caso perché infatti adesso ti parlerò di quello che ha combinato il narcisatana con lui cioè con il capo che ci ha provato con lei tanti anni fa e che lei aveva respinto e quindi continuiamo dopo il primo scarto per la Silvia la vedova molto attiva nel contesto politico con Giorgio quest'ultimo ritorna all'attacco love bombing spietato mazzi di rose in ufficio pianti addirotto al telefono che si trasformano in accuse di essere spietate e crudele nell'aver dato un taglionetto alla storia senza uno straccio di prova diceva lui e poi inculcava sensi di colpa perché se si ama veramente non si può non amare un momento dopo qualsiasi sia la causa del problema se si ama ci si impegna a risolverlo e il mio comportamento lo definiva immaturo e superficiale altra proiezione fatta ad hoc vorrei sintetizzare le situazioni successive al massimo ci rimettiamo insieme mossa a pietà lui per dimostrarmi che mi ama veramente si trasferisce in un ufficio più vicino al mio che dista al massimo 300 metri per dimostrarmi che non ha nulla da nascondere in effetti ci sentiamo e vediamo più spesso il mercoledì pausa pranzo aveva impegni solo con me per andare al ristorante tutto bene quel che finisce bene direte voi e invece no adesso improvvisa impegni fuori porta spesso nel pomeriggio anche visite e terapie di massaggi molto prolungati a sorpresa in uno di quei impegni lo chiamo e nuovamente lui è irraggiungibile eppure il medico dove doveva andare era in pieno centro non in aperta campagna il giorno dopo mi dimostro fredda infastidita lui vuole parlarne ci vediamo fuori dai rispettivi uffici per parlare davanti al solito caffè non credo le sue scuse mi sento presa per i fondelli lo saluto freddamente e me ne vado lui ha capito che non l'ho bevuta mi richiama mentre mi avvio in ufficio e gli dico che sono troppo nervosa per continuare la conversazione e quindi era meglio chiuderla lì e lasciarmi sbollentare rientro in ufficio e riprendo a lavorare ti avevo già parlato del mio amico caso chissà perché per tutto il tempo con lui le cose più disparate sul suo conto e sulla sua vera natura arrivano a me per caso senza che le cercassi mi arrivavano sempre da sole poi ho pensato che la mia parte bambina in accordo con l'universo architettava tutto per farmi aprire gli occhi ed era così e poi ho avuto la certezza ricordate le parole di Silvia per giustificarsi non è il caso anche queste parole le ho prese come un segno chiaro dell'universo ebbene pochi minuti dopo essere rientrata e storbirmi i suoi messaggi da vittima del tipo perché ti diverti a farmi star male sei proprio crudele arriva da me una collega parliamo un po' di cose stupide e mi dice ah poco fa ho visto al bar Giorgio con una bionda al banco che si prendevano un caffè io non rispondo nulla gli scrivo solo un messaggio salutami la bionda lui impazzisce mi chiama e si mette ad urlare chi te l'ha detto è stato un caso sono andato al bar e l'ho trovata lì perché lavora proprio nel negozio di fronte io non gli credo allora mi dice domani entriamo nel suo negozio con la scusa di comprare qualcosa e vedrai che non ci conosciamo stupidamente accetto entriamo salutiamo e lei improvvisa un discorso sul fatto che il giorno prima si incontra per caso con Giorgio al bar ma la cosa che mi fa sbarellare è che io non gli avevo chiesto niente e neanche lui e scusazio non pedita accusazio manifesta esco dal negozio e lui mi segue io ero furiosa e gli dico perché mai una sconosciuta ci teneva a farmi sapere che vi siete incontrati per caso dopo averlo messo con le spalle al muro ammette di averla chiamata ma non aveva il suo numero perché non la conosce ha cercato sull'elenco il suo negozio per pregarla di stare al gioco e salvarlo da una pazza esterica gelosa l'ho mandata a quel paese per la seconda volta ok stavolta è finita veramente mi dico per riagganciarmi ancora dopo questa porcata si è messo in ginocchio per strada davanti a me ma poi ci sarà un terzo scarto per altre due o tre volte ogni volta era una donna diversa ero ormai alla frutta mi stava prosciugando le energie e la voglia di vivere arriviamo all'ultimo anno dove sferra l'attacco finale per finirmi completamente ricordate il film 50 sfumatori di grigio mi sembra che sia la seconda parte quella dove il capo dell'ufficio di lei la molesta e lui da uomo alfa lo annienta perché si è permesso di importunare la sua donna bene dovrebbero fare un altro film con un'altra drama per questi pazzi il dottore rinomato titolare del centro dove lavoro comincia ad importunarmi cerca momenti in cui stare da solo con me per poi cercare di approfittarne comincia a seguirmi fuori dal lavoro a pedinarmi chiamarmi con l'anonimo e terrorizzarmi tanto da dirmi un giorno chiaro e tondo che visto che era una poco di buono dovevo sottostare alle sue richieste sessuali altrimenti avrebbe trovato il modo di trovare una falla nell'ambito lavorativo e licenziarmi l'ho respinto con tutte le mie forze mi faceva schifo ero sposato e non aver dichiarato stavo nel terrore di essere perseguitata e violentata ero risperata ed isterica ai miei problemi con Giorgio si aggiungeva quest'altra calamità avevo paura a recarmi in ufficio avevo paura di muovermi ho detto tutto a Giorgio nella speranza che potesse fare qualcosa visto che nell'ambiente politico lo conoscevano mentre raccontavo tutto quello che mi faceva al lavoro rendendomi lo zimbello di tutti piangevo disperata in quel momento ho visto la faccia di Satana davanti a me lui seduto di fronte a me si appoggia allo schienale e soghigna con un sorriso sarcastico e mi dice chissà che hai fatto tu per farlo invaghire così mi sembra una persona seria vedo che è visibilmente eccitato era difficile vedermi in queste condizioni era un cane bastonato e vedermi sottomessa lo ha fatto impazzire questa è una deviazione mentale tipica dei narcisisti dominare e approfittare di gente dimessa e senza difese li fa sentire onnipotenti mi ha preso con una passione rara e nel frattempo mi diceva meriti quello che ti fa il capo io ero terrorizzata ma non riuscivo a reagire nello stesso periodo arriva in ufficio una nuova impiegata una biondina secca secca con il naso aquilino lui che mi viene a trovare spesso la capta immediatamente e mentre a me di lei diceva le cose peggiori vengo poi a sapere che si sono scambiati il numero di telefono con la scusa di iscriverla al partito e di farle la tessera era quella che usava per tutte infatti il 90% delle scritte nel partito erano donne mentre mi difendevo dal capo che cominciava a minacciare e rendermi la vita impossibile e assistevo mio padre ormai in punto di morte ho saputo che durante le mie assenze dal lavoro perché al capezzale di mio padre lui il narcisatana andava a trovare nel mio ufficio la secca con mille scuse diverse quella che lui in tono dispregiativo chiamava sifilitica era invece la preda che aveva docchiato e aspettava un cento da lei per farsi scartare da me per l'ennesima volta e portarsela al letto ormai era una tecnica collaudata gli facilitai il compito aveva superato tutti i limiti della decenza e dell'umanità era una bestia e doveva uscire per sempre dalla mia vita ero in un momento delicatissimo e lui era troppo impegnato a spiegare alla secca l'ideologia del suo partito per starmi vicino non reggo più lo stress sto per crollare ma non posso permettermelo il capo incalza ogni giorno di più e mio padre sta sempre peggio un giorno sempre durante gli ultimi giorni di vita di mio padre mi viene a trovare un collega lui dice che era per far visita a mio padre ma poi approfitta per dirmi hai un momento devo dirti una cosa importante ho pensato che il capo avesse trovato il modo di licenziarmi vista la sua faccia invece quello che sento mi ha completamente devastata avrei preferito di gran lunga essere licenziata mi dice queste parole sai ho avuto modo di fare due chiacchiere col capo tu sai che lui ha sempre avuto un debole per te ebbene mi ha detto di aver parlato con Giorgio e quest'ultimo gli ha detto che si sta divertendo con te niente di serio solo una storia di sesso Giorgio sapeva che a lui si è sempre piaciuta si è posto in una situazione conflittuale dicendogli che non era la sua altezza per provarci con te per umiliarlo e ridicolizzarlo diciamo che si è vantato per aver raggiunto lo scopo che lui invece perseguiva da anni senza riuscirci ecco perché lui nell'ultimo anno si è accanito con te e farà di tutto per farti andare via chiedendo spontaneamente le dimissioni provate se ci riuscite a immaginare il mio stato sentivo di poter morire da un momento all'altro ma non potevo dar la vinta ad entrambi i galletti che combattevano nell'arena per la mia mano no tutt'altro era sicuramente per un'altra parte del corpo e pensare che io a Giorgio avrei dato anche la vita se serviva a salvarlo dopo una notte insonne rotta dal dolore trovo il coraggio di denunciare quel maiale del mio capo e di assistere alla morte di mio padre che si spegne abbracciato a me avevo bloccato il bastardo narcisista perché non avrei retto ad altre angherie neanche una parola in più avrei sopportato da lui passano sei mesi in cui io cerco di riprendere la mia vita data impasto a due porci che intendevano portarsela ognuno nel suo porcilaio il capo viene indagato processato e messo ai domiciliari a quanto pare nell'indagine hanno trovato altre magagne politiche e professionali la sua carriera sospesa Giorgio la bestia non potendomi chiamare o mandare messaggi pensa bene di scrivermi mail infinite e deliranti mi fa sapere da amici comuni che vuole suicidarsi per pesare per sempre sulla mia coscienza questi dicono sempre che si suicidano e poi non lo fanno mai giura di non aver mai detto queste cose al mio capo e intanto so che sta con la secca del mio ufficio oddio dire sta per lui un eufemismo la sola agganciata è inserita nel grande harem sempre aggiornato ogni tanto ne esce una che ha fatto il suo tempo e ne entra una nuova di zecca da sfruttare e spolpare fino all'osso poi deciderà se utilizzarla nei giorni pari o dispari quando le pile si scaricheranno e il giocattolo non funzionerà più per dargli l'energia vitale che gli serve la butterà via come spazzatura e questa è la sua attività principale quelle che mostra in società sono solo un'autentica copertura e la sua passione per la politica è solo il modo geniale per agganciare le sue vittime senza fare scandalo o dare nell'occhio la mia storia con lui finisce qui nel mio cuore qualcosa si è rotto definitivamente ormai era caduta la maschera e l'incantesimo su di me non funzionava più e aveva voglia di ammiccare lo sguardo con le sue armi preferite gli occhi ormai non vedevo più quello che lui mostrava al mondo un fighetto saccente che si credeva di ogni potente ormai io vedevo solo un sacco di cacca in tutta la sua altezza e vestita di tutto punto ma sempre cacca era ma non è finita udite udite dopo sei mesi si ripresenta io intanto ho cambiato lavoro grazie a Dio meglio di quello di prima e mi impegno in tante attività per cercare di uscirne come mi ha giustamente consigliato lo psicologo però lui nelle mail mi scrive che non avrò mai pace perché non ho la certezza delle accuse mosse a lui e Dio mi punirà per aver buttato nel cesso un amore raro come il nostro bene questo piccolo dubbio in effetti ancora non mi lasciava andare oltre e dimenticare sapevo di aver fatto la cosa giusta ma non avevo prove tangibili del tutto ho risposto alla sua email dicendo che sarebbe stato il mio ultimo tentativo con lui ormai che era tutto distrutto per quanto mi riguardava bisognava solo decretare di chi era la responsabilità ed avere le prove da sbattere in faccia da allegare al berservito finale come diceva lui mi sarebbe sempre rimasto un piccolissimo dubbio sulla sua innocenza ebbene decisione presa chiamo in rassegna le mie ultime forze e mi impegno solennemente con me stessa di riuscire nell'impresa di smascherarlo questo sarà l'unico modo per poi poter andare avanti tranquillamente lasciandolo nel mio passato in fausto nel mio incubo dal quale finalmente mi sarei risvegliato una volta per tutte vi assicuro che non è stato facile lui era scaltro e demoniaco recita da oscar pianti isterici e giuramenti in ginocchio fino al momento in cui di fronte alla possibilità da me sudata e cercata di poter dimostrare la sua innocenza si rifiuta di darmi la password che chiedo scappa e mi blocca qui finisce la mia impresa ne esco felice e vincente ho dimostrato a me stessa e alla mia bambina interiore che ha avuto sempre ragione sul suo conto ci siamo riconciliate ho dato a lei il comando della mia vita è lei che decide tutto la sua promessa di rendermi felice non è mai stata disettesa cara Giulia nella prossima email ti racconterò gli ultimi sei mesi da detective ormai non credevo ad una sola parola avevo una missione salvare me stessa dalle sue grinfie e con tutte le sofferenze che ne sono conseguite ho portato avanti la mia missione fino al conseguimento del risultato lo smascherato sbugiardato e sputtanato non sei la soddisfazione nella prossima email metterò alcune sue parole di quelle lunghe e deliranti email che mi mandava per farmi impazzire e finirmi del tutto grazie a tutti voi per l'interesse spero che tutto ciò vi possa essere utile bacio alla prossima e ultima e quindi niente aspettiamo l'ultima parte e poi faremo magari una sorta di commento generale però insomma tu sei già lucida centrata e quindi io non mi sento di aggiungere niente magari poi ne parleremo alla fine dagli è tutta pure a te e aspetto l'ultima parte dell'email vi leggo adesso l'esperienza di V cara Giulia mi chiamo V cercherò di essere breve anche se le cose da raccontare sono tante sto affrontando da circa tre mesi il post scarto è durissima sto sicuramente meglio rispetto all'inizio non sono mai stata lontano da lui per più di un mese le crisi di assinenza sono passate ma continuo ad avere incubi continui e soprattutto anche se ho ricominciato a fare le cose che mi piacciono ciò che mi fa paura è che mi sento terribilmente stanca e spenta guardandomi allo specchio che non riesco più a riconoscermi dove è finita quella persona piena di vita che sono sempre stata e quei pensieri ossessivi che mi fanno pensare alla mia sostituta perché io so che c'è ora è sparito anche lui premetto che non mi ha scartato lui bensì io non ce la facevo più era sfinita vuota in piena dissonanza cognitiva ho iniziato il distacco quando ancora lo frequentavo mi sono fatta una scorpacciata di video sulla patologia e alla fine quando lui è tornato gli ho sbattuto la porta in faccia più e più volte pensavo che questa vendetta sarebbe stata la mia rivincita ma non è stato così non avevo fatto i conti con i sensi di colpa la cattiva forza ero diventata io immaginavo lui che soffriva come stavo soffrendo io riflettevo su di lui le mie emozioni e continuavo a stare male poi ho capito che quello era ciò che mi aveva sempre bloccato io non vedevo lui e i suoi comportamenti ma rispecchiavo in lui quell'amore che volevo provasse per me è stata ed è dura ma so che ce la farò la cosa più dura da accettare è che lui è stato l'uomo che mi ha aiutata e supportata nell'uscire dal mio matrimonio di dieci anni con uno psicopatico che mi aveva distrutta sia fisicamente che psicologicamente lo avevo conosciuto sul lavoro e lui era diventato in poco tempo il mio più grande appoggio il mio più grande sostenitore sempre presente ci capivamo senza parlare mi aiutava a risolvere ogni cosa e poi a lui aveva sofferto come stavo soffrendo io o almeno era ciò che mi aveva raccontato dopo aver lasciato mio marito in pochissimo tempo forse troppo presto quando ancora stavo male per la fine del mio matrimonio il nostro rapporto è cambiato eravamo diventati qualcosa di più ma non sapevo cosa lui improvvisamente mi disse che storie serie non ne voleva e preferiva mantenere un'amicizia particolare pensandoci anche a me andava bene così e quindi accettai quello fu il mio più grande errore a poco a poco lui cambiò il nostro rapporto diventò un gioco al massacro e io un giocattolo nelle sue mani mi triangolava continuamente mi raccontava un'infinità di bugie mi sminuiva ha introdotto nel nostro rapporto non so quante donne vedete come si comportano sempre tutti diciamo più o meno nello stesso modo ci ha provato con la mia migliore amica anche mia figlia era un problema per lui e la cosa più brutta io dovevo rimanere un segreto invisibile a tutti come se nella sua vita non esistessi anche se a parole mi faceva milioni di promesse la cosa più inquietante lui mi conosceva alla perfezione conosceva tutte le mie dibolezze le mie paure e a poco a poco le ha usate tutte contro di me ma in modo suddolo facendo sì che mi sentissi sempre io sbagliata mi ha ucciso con i suoi silenzi le sue svalutazioni i suoi scarti e purtroppo i suoi ritorni in cui io ricascavo l'ultima volta che ci siamo visti ha avuto il coraggio di alzarsi dal letto dopo che eravamo stati insieme perché mi aveva concesso il sesso guardandomi con uno sguardo di disprezzo e dirmi devo andare a rispondere a una tizia altrimenti si arrabbia io lo guardo senza parole gli vomito addosso una marea di parolacce lui con tutta tranquillità mi risponde quanta cattiveria lo vedi sei troppo insicura poi mi guarda e mi dice vedi per me siete tutti uguali una vale l'altra io mando un messaggio e chi ha bocca prima è la prescelta l'ho guardato negli occhi mi ha fatto schifo chi cavolo era quell'essere che avevo davanti e chi ero io per lui un pesce come cento altri per la prima volta l'ho visto per ciò che era realmente alla fine non ce l'ho fatta più il dolore che provavo era più grande di quello che mi dava lui dopo un mese di silenzio in cui io ero sparita si è ripresentato come niente fosse io ho detto ba lui ha provato a riagganciarmi con love bombing e provocazioni varie ma ora io sapevo chi era avrei dovuto lasciarlo subito quando all'inizio mi chiamò in piena notte per incontrarci in un posto disperso perché diceva che gli mancavo dopo un po' che non ci vedevamo e scese dall'altra parte della strada un'altra donna dicendomi che era una sua amica anche se io non sapevo essere così poi mi portò al mare e mentre parlava con me mandava messaggi a non so chi e la mia richiesta di spiegazioni mi disse noi non siamo niente quindi non ti devo spiegazioni anzi dovresti essere felice che ti ho portato al mare che a te piace tanto poi mi mollò in piena notte in mezzo alla strada quella volta lo mollai ma tornò dicendomi che aveva un problema di salute e io ci ricascai questi sono stati solo il primo e l'ultimo di una serie di inspiegabili e bizzarre situazioni a cui mi è sottoposto e a cui io ho sempre cercato di dare una giustificazione quello che dicevamo prima credo di essere a buon punto anche se so che il percorso è ancora lungo so che ce la farò sono forte anche se lui mi ha fatto credere il contrario per troppo tempo grazie di aver dato voce alla mia storia in bocca al lupo a tutte nella speranza che un giorno potrò nuovamente fidarmi di qualcuno con affetto V cara V che storia mamma mia un matrimonio con uno che insomma tu definisci uno psicopatico ci avrei avuto le due buone ragioni subito dopo sei cascata dalla padella alla brace mamma mia penso che c'hai un carico emotivo fortissimo mi raccomando chiediamo sempre aiuto in situazioni del genere è importantissimo fare un percorso su di noi perché anche ci aiuta ad avere più fiducia in noi perché in realtà la fiducia nell'altro almeno per me è stato così io parlo sempre per mia esperienza la fiducia nell'altro ce l'hai quando c'hai una più profonda fiducia in te tu direi che vuol dire perché perché quando tu ti fidi di te sei più in contatto con il tuo intuito lo vogliamo chiamare così senti di più la vocina interiore perché quando all'inizio che hai conosciuto una persona del genere che si è comportata in maniera strana la vocina ti ha detto non va bene questo comportamento non è normale tra virgolette che abbiamo fatto noi abbiamo messo a tacere la vocina e siamo andate dritte per la nostra strada quello è perché noi non conoscendoci profondamente ci chiedevamo cioè una parte di noi si chiedeva ma vocina ma chi sei ma che stai a di e zitta così noi abbiamo sempre trattato le nostre intuizioni la nostra guida interiore che ci parlava perché non conoscendoci bene a fondo non sapevamo che invece quella era appunto la nostra guida interiore la vocina da seguire sempre o comunque da tenere in grandissima considerazione e facendo un percorso di costruzione della fiducia in noi stessi ci mettiamo proprio in accordo in alleanza con questa vocina e quindi gli diamo retta fare retta a questa vocina è una svolta perché la prossima volta vediamo subito quali sono le bandiere rosse capiamo subito quando una persona davanti a noi non ce la racconta giusta e possiamo scegliere con più forza e con più tenacia di chiudere subito il rapporto o se non di chiuderlo subito proprio drasticamente già però mettiamo da parte nella nostra testa la considerazione che abbiamo avuto di quella vocina quindi possiamo dire ok diamoci un altro po' di tempo però ricordandoci che la nostra vocina interiore la nostra guida interiore ha tirato fuori questa bandiera rossa questo segnale eccetera poi dopo uno lì decide che cosa fare di queste informazioni che ci vengono da dentro però intanto le dobbiamo tenere in considerazione mentre invece poi tendiamo sempre come dicevamo prima a giustificare a darci proprio delle giustificazioni e a mettere a tacere quella che invece è la fonte di informazione più importante quindi dagli tutto a vu facci sapere come va e grazie per aver condiviso con noi la tua esperienza allora io ho accumulato tantissime mail da leggere eccole qua non vi nego che sono in estrema difficoltà non so con quale andare avanti perché non mi scrivete mannaggia a voi se la mail è per la rubrica o no quindi mo io a tutte queste persone qua gli devo mandare la mail ma posso leggerla nella rubrica scrivetemelo mannaggia i pesci quindi concluderò questo episodio per oggi con la nostra M che ha scritto per noi tante volte degli scritti bellissimi che ci vuole parlare di un film che per lei è stato importantissimo che si chiama Mon Roi il mio re prendere consapevolezza della relazione con un narcisista perverso per allontanarsi da lui è come mettere insieme un puzzle un tassello di questo puzzle potrebbe essere il film Mon Roi del 2015 con Vincent Cassano e Manuel Berco regia di Mai Win o May Wen non so davvero come si legga la trama narra la storia di una donna che infortunatasi al ginocchio sciando durante la riabilitazione rilegge la storia con il suo nuovo c'è un'intelligenza superiore che fa sì che ci accadano incidenti o malanni con lo scopo di farci fermare e riflettere quelle che chiamiamo banalmente coincidenze in realtà molte volte sono il risultato di un equilibrio primordiale dal quale ci siamo allontanati la protagonista ripercorre la storia con il suo uomo che ha molti caratteri del narcisista gli affrettati ti amo sposiamoci desidero un figlio da te riportano alla fase iniziale della storia con il narcisista tutto accade in fretta ed è meraviglioso la realtà è però un'altra lui è un sovrano con la sua corte alla quale la sua donna deve adattarsi le ragioni della donna non esistono esiste solo il mon roi il mio re non a caso il titolo del film nella storia d'amore con un narcisista c'è sempre una corte e sempre un'altra donna essa sia una ex un'amica d'infanzia un'amica in difficoltà lui alterna carota e bastone e dosa la sua presenza nel tipico schema della manipolazione perversa non si rende conto del dolore che provoca esiste solo lui unico sole la donna che gli sta accanto non può fargli ombra tanto meno con gioie e successi che lui non condividerà mai scorrere le scene del film perché è stato a fianco di un narcisista è come ricevere pugni allo stomaco ma fanno bene servono a capire e a comporre il famoso puzzle anche quando il narcisista decide di curarsi lo fa solo per un tornaconto e perché è messo alle strette curarsi per quale malattia lui è in cura perché perché fa soffrire chi gli sta accanto nonostante tutto ormai lontana lo osservi le mani il profilo i capelli per un momento non lo odi e rivorresti il monroir solo per un attimo e mai più dobbiamo andare a vedere assolutamente questo film io non so se queste persone non si rendano conto del male che fanno come ho detto in un altro video H.G. Tudor che è un narcisista inglese che ha scritto un blog bellissimo che si chiama No Wind Narcissist conoscere il narcisista in italiano lui dice che ci sono appunto tre tipi di narcisista il minore il medio il maggiore che il minore non si accorge di quello che fa perché non ha coscienza del perché si deve nutrire delle emozioni degli altri il medio ha un'idea ma vaga invece il maggiore proprio si muove come uno squalo in cerca della preda quindi poi boh voi che ne pensate fatemi sapere se secondo voi il narcisista si rende conto di fare del male o no questo è sempre un argomento spinoso perché alcuni appunto dicono ah no ma loro non lo fanno si comportano così perché sono così e non saprebbero comportarsi in altro modo va bene ma siamo sicuri che non sappiano che fanno del male io io suppongo che invece lo sappiano benissimo proprio perché il sadismo e la crudeltà è proprio questo fare del male sapendo che stai facendo del male però ecco vorrei sapere che ne pensate voi per oggi è tutto adesso comincio a mandare le mail ma la posso leggere nella rubrica mi raccomando scrivetemelo sempre io farò al più presto un altro episodio così smaltisco le mail perché ce ne ho tantissime vi ringrazio continuate a scrivermi dialoghi.interiori e vi abbraccio e alla prossima